E' cominciata con l'Inno d'Italia e con la consegna della Costituzione agli studenti. E' proseguita con uno spettacolo musicale e teatrale messo in scena dai ragazzi dell'Ipsia Benelli nella palestra dell'Istituto divenuta questa mattina palcoscenico delle celebrazioni del prestigioso traguardo di 60 anni di storia della Scuola Superiore Pesarese. Sei decenni di didattica, formazione e preparazione al mondo del lavoro cominciati nell'anno scolastico 1963-64. 60 anni a non sentirli e soprattutto 60 anni di cultura a Pesaro. Infatti questo evento che all'origine avrebbe dovuto essere realizzato in Piazza del Popolo quindi rivolto anche alla cittadinanza poi abbiamo per varie questioni organizzative abbiamo deciso di farlo all'interno della scuola ovviamente invitando anche qualche istituzione ma soprattutto con i ragazzi e con i docenti e tutto il personale. 60 anni di cultura è inserito, 60 anni del Benelli è inserito in quelli che sono gli eventi in realtà di Pesaro capitale della cultura 2024. E lei chi è? Io sono Luigi Rossi, il pericolo meccano di Luigi Rossi e sono il fama mondiale. Il modo celebrativo scelto per onorare il sessantesimo compleanno è stato quello della formula teatrale musicale. Non vuole essere un vero e proprio spettacolo perché noi non siamo del Dams, non siamo del liceo musicale né dell'istituto d'arte però ci sono delle competenze altre oltre quelle che chiaramente quelle tecnico-professionali che chiaramente sono caratteristiche del nostro istituto con tanti indirizzi che penso che si conosca che adesso non sto qui a ripetere, però oltre l'anima tecnico-professionale abbiamo anche un'anima artistica e soprattutto ci crediamo. Quindi questo sarà un bel momento e coinciderà anche con la festa di istituto finale dei ragazzi che così saluteranno appunto questo anno. Una performance artistica che ha portato l'intero istituto a rimboccarsi le maniche a cominciare dai professori Luigi Mariotti e Dino Arteconi cimentatisi rispettivamente nell'organizzazione del coro e nell'attività di laboratorio teatrale sfociata nello spettacolo di fine anno. I ragazzi che hanno partecipato a questa preparazione e a questa realizzazione di questa giornata sono stati fantastici. L'orchestra ha dato il meglio di sé per tutto quello che poteva dare e i ragazzi sono ragazzi che sono della scuola quindi completamente diciamo che i 60 anni all'interno del coro e all'interno dell'orchestra proprio esprimono veramente i 60 anni del Benelli perché all'interno del coro abbiamo studenti di adesso, ex studenti proprio di 40 anni fa e abbiamo genitori, ex studenti, abbiamo personale ata, abbiamo professori quindi questo è molto importante. In più nell'orchestra abbiamo addirittura un genitore che aveva uno studente qui da noi quindi proprio è i 60 anni, racchiude proprio i 60 anni a 360 gradi in modo completo insomma. L'idea è stata mettere in scena degli sketch che raccontassero la storia del Benelli in maniera brillante e anche comica in alcuni momenti quindi sono dei brevi sketch che si intervalleranno ai momenti del coro e ai momenti delle letture e noi a partire dall'estate del 1963 abbiamo ambientato degli sketch che raccontano i momenti secondo noi più salienti e più di cambiamento di passaggio del nostro istituto.